Il Presidio ospedaliero di Polistena necessita di interventi di edilizia sanitaria urgenti, definitivi e per questo non più rinviabili. Non possiamo accontentarci di piccole manutenzioni che saltuariamente vengono compiute dall'ASP senza che tuttavia le stesse possono modificare significativamente spazi o rinnovare totalmente gli ambienti interni ed esterni. Abbiamo appreso dell'approvazione da parte del Presidente Occhiuto nella sua qualità di Commissaria d'Acchita per la Sanità Calabrese del DCA numero 45 avvenuta il 14 febbraio 2024 che stanzia oltre 68 milioni di euro per attività sanitaria compresi gli interventi di edilizia sanitaria. Si legge nel decreto che tali risorse potranno essere utilizzate per l'attività sanitaria anche nella costruzione di strutture sanitarie pubbliche ed in particolare per la prosecuzione ed il completamento dei lavori dei nuovi ospedali programmati citandoli pure Sibaritide, Vibo Valenza, Piana di Gioia Tauro. Ci preoccupa quella in particolare poiché, mentre la prima indicazione è troppo vaga e generica, la seconda è specifica e ci spinge a pensare male. Non vorremmo credere che ancora una volta a farne le spese siano le strutture ospedaliere calabrese esistenti nel loro complesso che già fanno fatica ad andare avanti per problemi di natura strutturale oltre che dei vuoti di organico persistenti. Tra essi c'è l'ospedale di Polistena che necessiterebbe di sale operatorie nuove, di ambienti salubri che interessano il comparto operatorio dove giungono migliaia di partorienti da ogni parte del territorio, della sostituzione di tutti i pavimenti ormai vetusti, dell'ampliamento di nuovi spazi per l'istituzione, del reparto di oncologia, del rifacimento della facciata esterna completamente ammalorata e pericolante. Gli investimenti sui tre nuovi ospedali, alcuni dei quali nemmeno partiti, sono già stati programmati con forti etorodidretti e specialmente destinate a quegli interventi. Non vi è la necessità, afferma il Sindaco di Polistena, di aggiungerne di nuove stanti gli sprechi e le lunghe attese. Pertanto ci aspettiamo che la programmazione dei 68 milioni sia equivamente distribuita dal Presidente Occhiuto per interventi di edilizia sanitaria sulle strutture ospedaliere pubbliche assistenti e da rilanciare, compreso quota parte dell'ospedale Spocchi di Polistena, ove vi è l'urgenza assoluta, indeferibile, di intervenire con un piano di riqualificazione.